Nessun biglietto, il bimbo non sale. Ancora una volta parliamo di voli, ancora una volta al centro la compagnia low cost EasyJet. Dopo la disavventura, smentita dalla compagnia aerea di una cinquantenne romana costretta a rinunciare all'aereo perché a causa del suo peso avrebbe dovuto acquistare due biglietti, questa volta il malcapitato, se così vogliamo dire, è un uomo di Como. Passati i controlli a terra, la famiglia è stata fermata dallo stesso di volo perché il bimbo di due anni e sette giorni, come scrive lui nella lettera, non aveva con sé il biglietto per adulti e quindi nessun rientro a casa con l'aereo. Le norme della compagnia prevedono infatti che superati i due anni si paghi il biglietto. Rigidità? Semplicemente mancato rispetto delle regole da parte dell'uomo, come ha sottolineato il direttore generale di aeroporti di Puglia, Marco Franchini. Dal canto suo EasyJet risponde, con riferimento ai fatti accaduti il 22 agosto sul volo Bari-Milano-Malpensa, la compagnia, pur ammaricandosi molto dell'accaduto, afferma che il proprio regolamento, chiaramente indicato sul sito internet, come del resto quello di altre compagnie aeree, prevede che i bambini di due anni compiuti paghino un biglietto e occupino un posto. Tale regolamento, purtroppo, per ragioni di sicurezza del minore stesso, non può essere derogato. Nel caso specifico non sarebbe stato nemmeno possibile far accomodare il bambino diversamente, essendo l'aereo al completo.